bene amici delle sante cord benvenuti in questo nuovo tutorial dove vi spiego come configurare un router e quindi non un modem router e neanche un access point solo e soltanto un router oggi siamo in compagnia di un router marchiato tp link parliamo di appunto 841 n come potete vedere qui nelle immagini insomma router sicuramente molto famoso viene dato incomodato d'uso gratuito con i maggiori provider via radio come eolo e quant'altro allora per poter configurare il prodotto bisogna prima di tutto accenderlo e non collegare nulla adesso ok quindi se avete un altro modem router l'antenna di eolo non collegate nulla quindi lo accendete soltanto ok e poi vi potete collegare in una delle quattro porte lan oppure in wifi questa che vedete a sinistra blu è la porta la vediamo meglio qui è la porta one quindi il computer per configurare il router dovete collegarlo in una di queste quattro porte gialle oppure lo potete anche collegare tranquillamente in wifi non c'è nessun tipo di problema e la password la trovate scritta sotto al prodotto vediamo meglio in questa immagine alla voce pin barra password oppure pin password per collegarvi c'è una volta che ci siamo chiaramente collegati in wifi non avremo internet ok ma non vi preoccupate dovremmo collegarci all'indirizzo ip che è scritto qua ok comunque tp link login punto net alle volte questo tp link login punto net non funziona l'indirizzo ip di default del del router tp link sono 192.168.0.1 facciamo invio e verremo vedete qua il modello nnd uguale e verremo immediatamente rindirizzati alla pagina del router ok chiaramente non c'è internet ma non vi preoccupate in realtà io ce l'ho perché una doppia scheda però per non farvi confondere le idee la disattivo e vi faccio vedere che nonostante io non abbia internet vedete riesco comunque ad entrare nella pagina di configurazione io mi sono collegato in wifi facciamo login le credenziali sono admin come nome utente admin come password facciamo login ed entriamo nella pagina di configurazione allora dopo farò un altro video dove spiegherò la differenza tra router modem router access point ora prendete soltanto quello che vi dico quindi dopo è scontato che voi sappiate la differenza tra questi tre allora come configurarlo prima cosa dobbiamo andare nella parte network e dobbiamo configurare la parte one allora piccola premessa se lo collegate a un modem router via cavo ethernet ok la classe lan non potrà essere uguale a quella del vostro modem router che ci sta dietro o l'antenna o qualsiasi altra cosa quindi se avete un'antenna di link che ha l'indirizzo ip 118 0 100 0 2 5 4 0 130 o comunque con la classe 0 per prima cosa dovete andare qui quindi network lan e modificare con una classe che sia differente da quella del vostro modem router access point cioè scusate modem router router che sta dietro oppure l'antenna quindi mettete ad esempio 120.1 una volta che fate salva chiederà un riavvio ok adesso attendiamo il completamento di questo ok sta quasi per terminare il riavvio vi voglio dire che se vi collegate in con cavo ethernet un wifi ogni tanto è necessario scollegare la periferica e ricollegarla quindi staccare il cavo 10 secondi riattaccarlo oppure il wifi lo stesso perché molte volte trattiene l'indirizzo ip vecchio e non riuscirete più ad accedere vedete che qua sopra è cambiato infatti adesso ci accederemo con 120.1 adesso attendiamo che il wifi si riconnetta vedete che si è riconnesso mi dice internet non disponibile ma a noi non ci interessa ecco vedete che siamo rilogati in 120.1 facciamo admin admin ed entriamo nella pagina di configurazione eventualmente se non dovesse riuscire se non dovesse riuscire cancellate la cronologia staccate la cavo ethernet lo ricollegate staccate il wireless lo ricollegate e all'indirizzo ip 120.1 che tra l'altro è quello che abbiamo modificato in lan riuscirete ad accedere ora quindi abbiamo cambiato questo 120 comunque questo che potremmo definire x in un numero diverso da quello che sta dietro quindi un modem router router e quant'altro l'antenna di link e quant'altro in questo caso vabbè io ho deciso 120 perché è difficile trovare un dispositivo che sta dietro che ha lo stesso indirizzo ip 120 ora cosa dobbiamo fare se avete eolo dovete andare in one scegliere pppoe questa dicitura qua e qua mettere il nome utente di eolo che di solito comincia per w una serie di numerelli che non ci interessano e la password e conferma ancora la password qui lasciate tutto come vedete e fate salva ok ora io metto ali metto eolo eolo e ancora eolo faccio salva ora ricordo che al router non c'è collegato nulla quindi qui rimarrà sempre in connecting qui rimarrà sempre in pending nel senso che non si collegherà nulla voi cosa dovete fare appena vi collegherete cioè appena farete questa configurazione dovete collegare nella porta blu il cavo che vi arriva da eolo quindi lo collegherete e in automatico qui vedrete connected dopo pochi secondi ok quindi questa la configurazione per eolo o comunque se il provider richiede una connessione pppoe all'antenna che non è che non dovete confondervi con quella di telecom o infostrada sono altre pppoe ok ora se invece avete link o il provider vi dice guarda devi prendere un router però ti ricordo che noi non usiamo la pppoe ok quindi usate o una statica o una dinamica basta le altre non tenetele in considerazione per nulla quando dinamiche quando statica semplicemente semplicemente se il vostro provider ad esempio linken all'antenna risponde all'indirizzo 19168.0.1 ed è per questo motivo anche che abbiamo cambiato in 120 punto 1 voi qui se date static dovete mettere 192.168.0 che è l'indirizzo dell'antenna di linken punto qualcosa che lo chiameremo punto x la subnet mask prendetela per vera è sempre questa e il default gateway prendetelo per vero se l'antenna di linken risponde all'indirizzo ip 0.1 questo sarà il gateway se nell'antenna di linken entrate con 192.168.2.1 questo sarà il gateway e allora la domanda sorge spontanea ma Alessandro ma questa x cosa dobbiamo metterci allora dovete metterci un indirizzo ip che potete acquisirlo da linken ok quindi quale mettete per esempio 130 oppure 150 se siete più smanettoni vedete che il dhcp di linken rilascia da 100 fino a 120 provate a mettere 121 in modo tale che non andrà mai in conflitto con nessun dispositivo ok poi fate i dns di linken li chiedete a linken e li inserite anche se sono opzionali anche se molti di voi diranno non servono mettete quelli di linken in alternativa mettete questi che sono quelli di google e questi prendeteli per veri fate save e lui si collegherà a linken poi chiaramente dovrete mettere il cavo dalla porta blu del tp link a una delle porte del linken bene se invece volete fare una cosa un po' più semplice potete utilizzare dynamic.ip dynamic.ip fate salva e lui acquisirà un indirizzo ip della stessa classe del vostro router che avete dietro quindi linken un modem router o un router che sarà ammettiamo che abbiamo preso l'esempio di linken 192.168.0. qualcosa ora io ho un frixbox che utilizza la classe 192 la scrivo qua salvo scanso di equivoci 192.168.179.1 o dovrebbe rilasciare in 178 vabbè comunque uno delle due ok quindi se adesso io vado a collegare il cavo dalla porta blu del tp link a una delle quattro porte del mio frixbox qui vedrete che verrà compilato con i dati del mio frixbox che saranno diversi da quelli della lan chiaramente ok adesso un attimo di pausa vado ad attaccare il cavo e così potete vedere in diretta quello che accade ok ragazzi adesso dopo aver collegato il tp link con un cavo ethernet dalla porta one quindi dalla porta blu appunto del tp link a una delle quattro porte del mio frixbox vedete che qui nella parte one lui ha acquisito un indirizzo ip dal mio dhcp server del mio frixbox infatti se andiamo in network one qui vedrete che vedete che si è compilato allora qui ho messo i dns fissi perché molte volte ci potrebbero essere dei problemi se io non avessi voluto usare dynamic avrei voluto usare static avrei dovuto dare un indirizzo ip una subnet e un getty avrei potuto dare 192.168.178.140 la subnet rimane la medesima e il getty rimane sempre 192.168.178.1 questo è il mio caso i dns vi ripeto li ho messi statici perché alle volte si possono creare dei problemi ma come vedete il mio computer che è collegato in wifi al tp link ha acquisito un indirizzo ip 192.168.120.100 questo perché il dhcp del tp link rilascia da 100 a 199 qui se avete problemi mettete anche qua i dns fissi e quindi vedete che state iniziando a capire come funziona un router bene, credo che per questo video ho detto tutto non voglio dirungami troppo come al solito perché sennò vi faccio una testa così se ci sono delle domande fatemelo in descrizione condividetelo con tutti i vostri amici che non riescono a configurare un router e vi aspetto per il prossimo video dove spiegherò appunto la differenza tra access point, modem router e router e soprattutto se avete delle domande inerente alla configurazione della vostra linea quindi con link email o con qualsiasi altro provider e avete appunto delle domande perché non riuscite fatemele pure in descrizione vi ringrazio, vi ringrazio e al prossimo video ciao da Alessandro TechWord